Tra i progetti a Cortona e in via di ripartenza c'è anche la stagione teatrale che l'amministrazione sta organizzando e calendarizzando. Abbiamo voluto dare seguito al cartellone importante del Teatro Signorelli proprio per dare fiducia al pubblico ma soprattutto perché volevamo ricominciare a portare attori di grande livello nella nostra città. Ci saranno dei personaggi eccezionali per il teatro? Sì, Alessio Boni, Gleises, Laurito, Cornacchione, Silvio Orlando, quindi ci saranno veramente il top del teatro italiano. Quindi ancora una volta il Teatro Signorelli riesce a dare un bel segnale forte alla nostra cultura. Ti sta dando sempre più importanza anche alla musica classica? Sì, abbiamo un'orchestra stabile ormai, è stata fondata a giugno del 2020, in totale contro tendenza rispetto a quello che succedeva in Italia, quindi siamo stati probabilmente l'unica realtà a nascere in quel periodo di pandemia. Adesso stiamo portando avanti questo progetto che potrà avere ulteriori sviluppi. Ci stiamo lavorando allacremente perché in un certo senso riusciamo a dare speranza a un sacco di musicisti che insistono nel nostro territorio, ricordo che sono tutti strumentisti che vengono dalle province di Arezzo, Siena e Perugia, quindi contigui a Cortone, alcuni sono anche cortonesi ovviamente.